Sai, non l'ha fatto, lo farà. Ma quando, Maria? Per dirmi cosa? E io... Lo farà perché ti ama, vedrai. Mariana? Posso entrare? Te l'avevo detto, eccola qui. Io vado così potete parlare. Prego, signorino, col suo permesso. Mariana. Parlami, non avere paure, dimmi quello che vuoi. Io sono rassegnata. Cosa vuoi dire? Me ne andrò quando vorrai tu. Perché dovresti andare via? So che ti annoio, che non ho saputo essere la donna che desideravi, purtroppo. È soltanto colpa mia. Mariana, come fai a pensarlo, a dirlo? Se tu mi vedi turbato e confuso è perché non so con quali parole esprimermi. Non so come farò a chiederti di... di accettarmi. Mariana, tu sei mia moglie, io ti amo, devi perdonarmi. Accettarti? Perdonarti. Accettami. La storia con Sara è stata un affilimento. Mi ci sono trovato dentro senza accorgermene, ma... non è lei che io amo, amo te. Amo soltanto te. Soltanto te. Sei tu la donna della mia vita. Quella che io ho sempre amato. Quella che amerò fino alla morte. Luis Antonio, amore mio. Grazie! A presto... Grazie a tutti.